Il primo cittadino sospeso di rende nonché avvocato penalista Marcello Manna, presumibilmente coinvolto nel Maxi Blitz Reset che ha portato all'arresto di 202 persone con altre 54 a piede libero il primo settembre scorso, starebbe per lasciare gli arresti domiciliari dopo circa un mese. Lo ricordiamo, l'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Catanzaro, guidata dal procuratore capo Nicola Gratteri. Dalla cancelleria ci risulta l'annullamento dell'ordinanza, ma al momento nulla è stato ancora notificato, ha detto a Lanza l'avvocato Nicola Carraterli insieme all'avvocato Gian Domenico Cagliazza, legali del primo cittadino rendese, presidente del Lanci Calabria. Manna è accusato di scambio elettorale politico mafioso nell'ambito dell'inchiesta sulle cosche d'Indrangheta del Cosentino ed in particolare di aver avuto rapporti con esponenti delle consorterie che avrebbero favorito la sua elezione del 2019, in particolare nel Mirino, gli inquirenti, il bando di di gara per la gestione del palazzetto dello sport di Rende.